benvenuti amici di mattoscacco.com nella partita di oggi andiamo ad esaminare una delle più assurde incredibili e probabilmente mai giocate prima aperture e stiamo parlando di un'apertura che ha giocato Gary Kasparov uno dei più forti giocatori al mondo mai esistiti è tutto ancora vivente e la cosa più assurda che l'ha giocata contro un super gran maestro i super gran maestro sono quelli denominati che hanno un punteggio al di sopra del 2005 alcuni dicono al di sopra del 2006 sei super gran maestro alcuni dicono al di sopra del 2007 sei un super gran maestro comunque stiamo parlando di Sergei Karyakin 2773 punti domanda puoi utilizzare un'apertura strana contro un 2773 a quanto pare Kasparov può Kasparov con bianco Karyakin con nero e4 e5 aperture direi f4 e fin qui nulla di male si chiama gambetto di re questo tipo di gambetto appunto un po passato di moda però fin qui nulla di male il problema è diciamo sono le continuazioni che che seguono adesso solitamente qui ci sono c'è diciamo una un tipo di difesa che è considerata la migliore di continuazione per il bianco che cavallo f3 cavallo f3 oltre alle varie possibilità che ha il cavallo di entrare supportato con il cavallo c4 con l'alfiere scusami c4 per andare ad attaccare f7 allo scopo importantissimo di impedire alla donna di entrare in h4 poiché a seguito di una qualsiasi altra mossa che non so una mossa inutile donna h4 e qui ci sono gravi problemi gravissimi problemi l'altra continuazione è alfiere 2 anche questa ancora una volta permette questo tipo di entrata ma ora diciamo che il re ha la possibilità di di avere questo nascondiglio f1 altra alternativa da alfiere 2 c'è alfiere c4 gambetto d'alfiere viene chiamato questo tipo di di continuazione ancora una volta donna h4 re f1 qui il bianco perde l'arrocco tuttavia non è diciamo fondamentale poiché ha un rapido sviluppo alfiere f3 d4 l'alfiere catturerà su f4 eccetera eccetera la partita comunque molto aggressiva casparov non fa nessuna di queste continuazioni ma gioca la stranissima cavallo c3 ed è su questa mossa che il computer da in questa situazione un vantaggio di meno 25 al bianco dopo al nero scusami dopo questa mossa al nero viene dato un vantaggio di meno 1.30 cioè capisci quanto è assurda questa questo tipo di continuazione e infatti karyakin ne approfitta per giocare donna h4 scacco ora non abbiamo mai parlato della continuazione con g3 poiché cosa succede a seguito di g3 che non è la mossa comunque giocata dal bianco in partita segue cattura di pedone ora per esempio se cavallo f3 con l'intento di catturare la donna c'è g2 con scacco sul re ora togliamoci dallo scacco e catturiamo la donna peccato che questo pedone non solo ridiventa un'altra donna ma cattura anche una torre avversaria quindi qui il bianco ha totalmente perso la partita per questa ragione la spinta g3 diciamo non è giocabile e rimane praticamente l'unica alternativa andare con re in e2 capisci qual è il problema di re in e2 è che le diagonali dei pezzi della donna dell'alfiere sono completamente tappate questo grande problema di avere il re al centro ora diciamo una continuazione forte per il nero era quello di ritirarsi con la donna in e7 con l'idea di supportare poi la spinta in d5 eventualmente con c6 con cavallo f6 eccetera e comunque andare a giocare su questo pedone che è chiaramente è inchiodato poiché c'è dietro il re probabilmente una mossa abbastanza passiva gioca a donna d8 comunque anche qui c'è l'idea di c6 d5 comunque non è malvagissima segue d4 e qui purtroppo il nero non riesce a sfruttare la sua posizione migliore gioca una mossa semplice come cavallo f6 Kasparov alfiere f4 e qui la posizione diciamo è abbastanza buona per il bianco alfiere b4 con l'idea di andare a eliminare il difensore del pedone in e4 quindi a seguito della cattura si potrebbe tranquillamente giocare una mossa di questo tipo alfiere g5 così il cavallo è inchiodato poiché dietro c'è la donna cambio di alfiere su cavallo e ora chiaramente il bianco minaccia anche questo tipo di spinta e5 che è pericoloso anche fino a un certo punto poiché c'è sempre da giocare anche sull'inchiodatura del re bianco d6 cavallo f3 arrocco corto e ora dato che il bianco ancora il re al centro c'è questo pedone che praticamente non è tenuto da nessuno Kasparov dice facciamo così io intanto ti trovo questo cavallo che era il principale attaccante di questo pedone adesso che siamo in questa situazione e nessuno dei due ha più gli alfieri e camposcuri io metto il re su f2 nonostante sia sulla stessa traiettoria della donna ma lo metto su una casa scura e così mi sento un po' al sicuro così adesso ho la possibilità di difendere questo pedone qui c5 del nero h3 per evitare le entrate d'alfiere in questa casa torre in e8 attaccando questo pedone centrale e qui donna d3 la donna in d3 diciamo controlla un po' tutta la situazione un po' il boss della situazione b6 probabilmente per sviluppare l'alfiere in fianchetto ed attaccare ulteriormente questo pedone e Kasparov gioca donna e1 per portare difese a questo pedone alfiere b7 e ora questo il problema del bianco è un problema di sviluppo adesso poiché c'è ancora questo alfiere che è a casa non sta facendo nulla e non si sa neanche dove andare se questo alfiere andasse in e2 intralcerebbe un po' anche i piani difensivi del bianco quindi probabilmente l'altra via di fuga dell'alfiere è andare da questo lato sicché il bianco gioca g3 cavallo c6 questa mossa non è la più forte era meglio giocarlo in d7 poiché da c6 vai a coprire il raggio d'azione dell'alfiere alfiere in g2 torre in a va in c8 a3 per parare le eventuali entrate di cavallo a seguito di eventuali cambi di pedone cavallo in b8 torre in e3 qui il bianco sta cercando appunto dei piani difensivi cavallo d7 alla fine visto che questo cavallo è andato in d7 ora qui una mossa buona per il bianco era torre in h andava in e1 raddoppio di torri qui non sta malissimo il bianco anzi il computer da un leggerissimo vantaggio al nero ma è situazione praticamente pari casparo gioca però torre in f1 torre in f1 con l'idea di muovere poi il re in g1 e creare attacchi di scoperta alla donna la donna perciò si toglie preventivamente e ora attenzione quanti attaccanti ci sono su questo pedone abbiamo un attaccante che è la donna un altro attaccante che è la torre un altro attaccante che è l'alfiere quanti difensori abbiamo abbiamo un difensore due difensori è chiaro che ci vuole un terzo difensore parte che il nero può continuare ad aumentare la pressione anche con donna f6 con cavallo f6 però ci vuole un altro difensore che difensore ti verrebbe da mettere su questo pedone spontaneamente torre in f vai in e1 giusto ma casparo non so quale sia stato il motivo probabilmente una scelta o forse una svista un errore regi 1 e qui la posizione scende da una posizione praticamente pari dopo re in g1 qui si perde totalmente perché l'alfiere arriva al centro chiaramente non si può catturare la donna si deve ritirare tenendo anche questo questo pedone anche se per il momento l'alfiere non si può togliere d5 e ora abbiamo un avamposto fissato cavallo h4 con l'idea anche di cambiare l'alfiere eventualmente g6 che impedisce queste entrate di cavallo che possono essere insomma devastanti cambio di alfieri e pedone fortissimo nello schieramento del bianco e ora c'è donna g4 donna g4 ha l'idea di giocare su questo su questa manovra di cavallo cavallo in f5 il pedone non può catturare poiché è inchiodato e cavallo in h6 con scacco e attacco doppio di cavallo e torre su f7 quindi questo è un piano semplice quanto efficace il nero però non può permettere tutto ciò perciò gioca a cavallo f6 minacciando la donna e ora seguono una serie di ripetizioni di mosse probabilmente anche per guadagnare tempo sull'orologio poiché molto probabilmente si giocava con l'incremento di qualche seconda mossa donna g5 cavallo in h5 donna g4 cavallo in f6 donna g5 cavallo in h5 donna g4 qui onde evitare la patta cavallo g7 e donna e2 analizziamo la situazione in questo momento qui la posizione è ancora buona per il nero nonostante il bianco sia un po' ripreso però ci sono molte debolezze nello schieramento del bianco questi pedoni sono un po' così l'arrocco è un po' sguarnito pedoni doppiati pedoni isolato qua insomma non è il massimo della situazione il nero continua con c per d c per d e ora si è liberata alla diagonale per questo pedone segue però prima f5 creando una struttura molto solida e impedendo al cavallo questo tipo di entrate e adesso il cavallo per rimanere attivo dovrà fare un bel po' di giochini come cavallo g2 cavallo f4 eccetera eccetera però ci vogliono un po' di manovre è il turno del bianco che gioca cavallo g2 donna d6 ci sono tre attacchi c3 per difendere il pedone centrale d4 donna per a3 a seguito di questa situazione il bianco si trova a corto di spazio c'è il nero che ha un pedone passato le due torri del nero che sono attive che puntano tra l'altro sulla debolezza questa catena di pedoni qui c'è un altro bellissimo pedone passato insomma non sta benissimo casparo tuttavia riuscì a riprendersi adesso andiamo avanti di qualche mossa poi non la vediamo tutta perché era molto lunga come partita donna d2 cavallo e6 g4 con g4 si creano altri buchi e altre altre debolezze cavallo in g5 con l'idea di andare in f3 e da qui diventerebbe devastante g per f5 cavallo f3 giustamente e ora c'è un doppio su re e donna direi che bisogna dare la torre la torre né scusami torre né pedone e questa situazione qui è quella che si prospetta a questo punto casparo è con una qualità in meno ha delle potenzialità di attacco sull'arrocco e infatti riuscì con solo donna e cavallo a creare una situazione praticamente quasi di matto e karyakin fu costretto a dare continuamente scacco con la donna altrimenti rischiava di perdere la partita quindi la partita finì patta è stato veramente incredibile vedere come quando si è così forte ci si può diciamo anche divertire a giocare a scacchi con aperture assurde mettendo anche psicologicamente in difficoltà il proprio avversario insomma abbiamo solamente da imparare dal grande maestro gary kasparov bene spero che il video ti sia piaciuto come al solito ti invito a mettere un like lasciare un commento e se ti è piaciuto il video anche di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto noi ci vediamo nel prossimo video ciao e ora per continuare che cosa posso fare beh innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni e poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana ci vediamo ciao